La nuova coppia potente del mondo tecnologico YouTuber e Xiaomi. Gli YouTuber sono ovunque, recensiscono prodotti, condividono opinioni e influenzano milioni di persone. Xiaomi è un gigante tecnologico in ascesa, noto per i suoi dispositivi di qualità a prezzi accessibili. Insieme stanno cambiando il modo in cui vediamo e acquistiamo la tecnologia. Xiaomi comprende il potere degli YouTuber. Questi creatori hanno costruito un rapporto di fiducia con il loro pubblico. Questa fiducia ha un valore inestimabile nel mondo della tecnologia, dove i consumatori sono bombardati da un'infinità di scelte. Questa partnership è un connubio naturale. Xiaomi fa conoscere i suoi prodotti a un pubblico vasto e coinvolto. Gli YouTuber hanno accesso a tecnologie all'avanguardia e la possibilità di fornire un reale valore aggiunto ai loro spettatori. La connessione con gli YouTuber, costruire fiducia e raggiungere il pubblico. Gli YouTuber hanno un rapporto unico con i loro spettatori. È un rapporto basato sull'autenticità e sulla condivisione di interessi comuni. Quando uno YouTuber consiglia un prodotto è come ricevere un consiglio da un amico. Questa connessione è potente. Gli spettatori si fidano dell'onestà e dell'imparzialità degli YouTuber. Sanno che i creatori di contenuti contano sul loro supporto e non rischierebbero di tradire quella fiducia per una sponsorizzazione. Xiaomi riconosce questa fiducia. Collaborando con gli YouTuber attinge a una rete di influenza già consolidata. Questo è molto più efficace della pubblicità tradizionale, che spesso risulta impersonale e irrilevante. Una coppiata perfetta, Xiaomi e YouTuber, che condividono lo stesso spazio. Xiaomi e gli YouTuber si rivolgono a un target simile, consumatori, esperti di tecnologia e attenti al rapporto qualità-prezzo. Persone che desiderano i dispositivi più recenti senza spendere una fortuna. Gli YouTuber, soprattutto quelli del settore tecnologico, sono noti per il loro amore per l'innovazione. Sono alla costante ricerca della prossima grande novità. Xiaomi, con il suo rapido ciclo di sviluppo del prodotto e l'attenzione per le funzionalità all'avanguardia, si inserisce perfettamente in questo mondo. Questa sovrapposizione crea una potente sinergia. Gli YouTuber sono entusiasti di mostrare i prodotti Xiaomi. I loro spettatori sono ansiosi di vedere questi dispositivi in azione e di ascoltare opinioni sincere. Sezione 4, valore per tutti. La tecnologia accessibile di Xiaomi incontra la curiosità degli YouTuber. L'accessibilità economica di Xiaomi è un importante punto di forza. I loro dispositivi offrono spesso specifiche di alto livello a un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Questo aspetto trova forte risonanza tra gli YouTuber e il loro pubblico. Gli YouTuber sono sempre alla ricerca di prodotti interessanti da presentare. L'impegno di Xiaomi per l'innovazione, unito ai prezzi competitivi, li rende un partner ideale. Questa partnership consente agli YouTuber di offrire qualcosa di prezioso al loro pubblico informazioni su tecnologie di alta qualità e accessibili. È una situazione vantaggiosa per tutti. Sezione 5, l'effetto virale. Come le recensioni degli YouTuber, si traducono in un successo di marketing. Le recensioni degli YouTuber hanno il potere di diventare virali. Un singolo video può raggiungere milioni di spettatori nel giro di pochi giorni. Questo tipo di visibilità è impagabile per qualsiasi marchio, soprattutto nel competitivo mercato della tecnologia. Quando uno YouTuber elogia un prodotto Xiaomi, si crea un effetto a catena. Gli spettatori condividono il video, lo commentano e lo diffondono in modo organico. Questo passaparola autentico ha un impatto molto maggiore di qualsiasi campagna pubblicitaria a pagamento. Xiaomi lo ha capito. Danno agli YouTuber la libertà di creare contenuti genuini, confidando nella loro capacità di entrare in contatto con il loro pubblico. Questo approccio ha avuto un incredibile successo, aumentando la consapevolezza del marchio e le vendite. Sezione 6 Una partnership vantaggiosa per tutti, vantaggi reciproci per Xiaomi e gli YouTuber. La partnership tra Xiaomi e gli YouTuber è reciprocamente vantaggiosa. Xiaomi fa conoscere i suoi prodotti a un pubblico vasto e coinvolto. Gli YouTuber hanno accesso a tecnologie innovative e a opportunità per creare contenuti accativi. Questa collaborazione va oltre la semplice presentazione di un prodotto. Si tratta di costruire una community attorno a valori condivisi innovazione, convenienza e passione per la tecnologia. Questa visione condivisa è la chiave del successo della partnership. Garantisce che entrambe le parti siano impegnate a creare qualcosa di autentico e di valore per il consumatore. Sezione 7 Il futuro del marketing tecnologico, collaborazione e autenticità La partnership tra Xiaomi e gli YouTuber rappresenta il futuro del marketing tecnologico. Si basa sulla collaborazione, sull'autenticità e sul raggiungimento dei consumatori alle loro condizioni. Con l'evolversi della tecnologia si evolveranno anche i modi in cui i marchi e i creatori di contenuti si connettono. La chiave sarà mantenere la trasparenza, costruire la fiducia e offrire un reale valore aggiunto al pubblico. Xiaomi e gli YouTuber sono all'avanguardia in questa nuova era del marketing. La loro partnership è la dimostrazione del potere dell'autenticità, della collaborazione e del rapporto in continua evoluzione tra marchi e creatori.